Se le tue persiane sono ridotte così, prima di cambiarle, chiamaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Lothar, azienda leader in Toscana e nel centro Italia, rimette a nuovo le vostre persiane in legno con un lavoro realizzato a regola d'arte, nel completo rispetto dell'ambiente. Veri e propri professionisti del settore vi riporteranno le vostre persiane come nuove, con un lavoro garantito 5 anni, ad un prezzo veramente conveniente. Lothar dà nuova vita alle vostre persiane. Lothar, l'unico specialista delle persiane. Info 055 73 10 170. Lothar persiane.it